una perturbazione nord atlantica porta a nubi e pioggia martedì 24 febbraio molto nuvoloso coperto con precipitazioni moderate nel pomeriggio minime stabili massime in lieve diminuzione comprese fra 7 e 9 gradi bora moderata sulla costa mare da poco mosso a mosso mercoledì 25 febbraio cielo molto nuvoloso salvo parziali schiarite vento da nord est minime in calo massime in salita mare poco mosso giovedì 26 febbraio nuvolosità compatta ma non piove massime ancora in lieve innalzamento mare poco mosso la marea di martedì 24 febbraio è normale la massima all'1 e 30 65 centimetri la minima alle 8 e 20 10 centimetri